Albano Carrisi ha deciso di allargare la famiglia all'età di 78 anni. Secondo le ultime notizie, il cantautore pugliese ha pensato bene di allargare ancora di più la famiglia, facendo aumentare il numero totale dei membri da 6 a 9. In un'intervista, la rivista Diva e Donna ha confessato di aver accolto nella sua proprietà Cellino San Marco tre ragazzi ucraini di 17, 16 e 7 anni, fuggiti dalla guerra. Insieme alla madre, anche lei ospitata nella tenuta. Albano ha affermato, ora siamo una nuova famiglia, mettendo a proprio agio i nuovi arrivati, parlando di ogni argomento, dalla musica allo sport, senza nominare mai la guerra.